Grazie intanto di aver accettato il nostro invito e le pongo la prima domanda. Dottor De Battaglia, sulla base della sua esperienza di farmacista, quali consigli può fornire per una corretta educazione sanitaria? Innanzitutto grazie a voi per l'invito. Direi che l'educazione sanitaria è il principale strumento della promozione della salute, intesa come il processo che mette in grado le persone e le comunità di avere un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla. Educare deriva dal latino educere, che vuol dire tirare fuori. Quindi educazione sanitaria non è semplicemente limitarsi a un consiglio, dare delle informazioni, ma dovrebbe essere una specifica tecnologia sanitaria che comprende tutte le forme di comunicazione, le occasioni costruite consapevolmente per apprendere e migliorare le conoscenze, le abilità motivazionali che possono influire su quelli che sono i comportamenti individuali e collettivi rilevanti per la salute. In modo tale da consentire alle persone di prendere decisioni consapevoli e autonome e di avere un maggiore controllo sulla propria e altrui salute, nonché di migliorarla. Quindi, riassumendo, il metodo elettivo dell'educazione sanitaria è un metodo progettuale, cioè si sviluppa per risolvere un problema, deve essere intersettoriale, quindi coinvolgere più figure e attori possibili, fondamentale che sia partecipativo, quindi si realizza sempre con la collaborazione attiva dei soggetti che in esso sono coinvolti, e di valutazione finale o intermedia dei processi e degli esiti. Quindi punta fondamentalmente a un grande coinvolgimento e a quello che la letteratura inglese chiama empowerment, che in italiano non ha una vera traduzione, potremmo definirlo capacitazione, sia individuale che collettiva. Qual è il ruolo moderno della farmacia, intesa come punto di prevenzione? La farmacia ritengo che sia un setting privilegiato per fare educazione sanitaria e prevenzione, essendo lei connessa insieme ai medici di medicina generale, chiaramente l'anello di congiunzione tra il cittadino e il sistema sanitario, nazionale. Infatti le farmacie sono capillari, sono aperte molte ore al giorno, sono facilmente accessibili sulla strada, e le statistiche stesse dicono che i farmacisti sono tra gli operatori sanitari più consultati e godono di un buon grado di fiducia. Quindi prevenire significa agire prima, impedire che la patologia si sviluppi. La prevenzione non riguarda solo un'azione incentrata sugli agenti patogeni specifici, ma si allarga fino a coinvolgere gli aspetti comportamentali del singolo individuo e anche aspetti più ampi di tipo sociale, economico o culturale. Quindi l'obiettivo fondamentale per la farmacia, intesa come presidio di prevenzione, è quello di essere messa in grado e di essere coinvolta insieme agli altri operatori sanitari sul territorio, come setting fondamentale di azioni mirate, oltre che all'educazione sanitaria, alla prevenzione stessa. Sia primaria, quindi su persone individuate come a rischio di patologie croniche, sia secondaria delle complicanze e del monitoraggio delle stesse patologie croniche. Questo si ottiene attraverso precisi percorsi che sono i cosiddetti PDTA, cioè i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, condivisi e che la coinvolgano sempre più nella medicina territoriale. Puoi spiegare le differenze tra i due test Covid, sierologico e tampone? Certamente, permettendo che da un punto di vista diagnostico esecutivo e di risultato evidenziato, entrambi i sistemi hanno dei limiti e dei vantaggi. Possiamo dire quindi che il tampone della gola e del naso è una ricerca molecolare dell'RNA virale, ossia permette di rilevare la presenza di materiale genetico virale nelle alte via OER. L'esame sierologico invece è una procedura diagnostica utilizzata per identificare la presenza di una risposta immunitaria contro un particolare agente infettivo, ossia degli anticorpi GG-GM e in alcuni casi anche degli IGA. Il tampone ad oggi, nonostante il numero abbastanza elevato di falsi positivi e falsi negativi, rimane comunque l'unico esame per verificare e diagnosticare se un individuo è infetto da Covid. Il test sierologico invece, che non può assolutamente andare a sostituire il tampone, ma ci si deve affiancare nell'uso, è utile per fare degli screening epidemiologici di siero-prevalenza su larga scala di popolazione e quindi è utile per stabilire se gli individui sono stati a contatto col virus o hanno sviluppato gli anticorpi, quindi una risposta immunitaria verso lo stesso virus. Lei è presidente di Futur Pharma. Quale piano sanitario Covid proponete per il Trentino? Sì, innanzitutto Futur Pharma è un'associazione nazionale di farmacisti, io ne sono rappresentante a livello regionale. Vorrei promettere che nell'ultimo mese e mezzo abbiamo intensificato molto quella che mi piace definire alleanza terapeutica assistenziale con i medici, con l'ordine dei medici e con gli infermieri, lavorando in grande sinergia, fianco a fianco, per sviluppare idee e azioni, arrivando a definire una proposta concreta, condivisa che abbiamo portato all'attenzione della politica e della stessa azienda sanitaria. Al di là di quello che è un piano di educazione nella nostra proposta, al di là di quello che è il piano di educazione sanitaria corretta ed efficace e di eventuali concrete azioni di prevenzione primaria e secondaria, come dicevamo prima, ma nello specifico noi chiediamo alla politica e all'azienda sanitaria di mettere in atto urgentemente un piano di screening epidemiologico di ampia portata sulla popolazione trentina, ossia di fare un'azione di ricerca e studio ben organizzato e coordinato, con un alto valore profilattico e civico sull'andamento del contagio del Covid e quindi di contenimento della sua eventuale diffusione attraverso l'uso di test sierologici rapidi che hanno il vantaggio di essere economici, semplici da usare e veloci nell'esito della risposta che danno. Quindi il fine di questa richiesta è triplice. Il primo è quello di garantire ai cittadini la salute individuale e collettiva e quindi quello di non inficiare i sacrifici fin qui affrontati dalla popolazione, di consentire una riapertura e una ripartenza economica in sicurezza, oltre che all'abbattimento eventuale, ulteriore abbattimento della curva del contagio. Il secondo riguarda la possibilità di dare una risposta a un'esigenza che noi riteniamo forte e anche legittima e giustificata dai cittadini e dei loro rappresentanti, di conoscere lo stato di salute individuale e collettiva relativamente a questa infezione del SARS-CoV-2, garantendo però un precisi standard di utilizzo e di applicazione efficace del test rapido che deve essere validato almeno a livello europeo e che oggi inizia a essere anche disponibile in Italia, senza quindi dare adito a speculazioni commerciali, a iniziative da parte di singoli cittadini che possono generare chiaramente false sicurezze, risultare confuse, non individuabili da parte dell'azienda stessa sanitaria e neanche protocollate. Il terzo è un po' un obiettivo di servizio e è legato alla possibilità di confermare l'immagine del Trentino in chiave di organizzazione ed efficienza, ma anche di attrattiva turistica, diciamo come potenziale territorio covid free, quindi di aiutare questa uscita rapida da questo stato attuale. Bene, grazie per essere stato con noi e le auguro buona giornata. Grazie a voi, stati molto gentili, buona giornata anche a voi.